Buongiorno a tutti e benvenuti alla Rassegna Stampa, occhio ai giornali di oggi, martedì 18 aprile. Benvenuti e ben ritrovati, buon inizio settimana dopo le festività pasquali. Oggi cerchiamo di tornare alla normalità anche se oggi è una mezza festa, per esempio qua a Fano, poi lo vedremo anche dal giornale. Allora iniziamo dal santo di oggi, oggi festeggiamo, ricordiamo una beata, la beata Maria dell'Incarnazione, il suo risorto alle 6.22, 3.19.53. Ma dicevo, diamo subito un'occhiata al tempo perché ci sono delle sorprese per la giornata di oggi. Qui siamo sul sito di geometeo.it che ci mostra due fotografie, la mattina e il pomeriggio sono due cose completamente diverse. Vedete, ancora stiamo vivendo momenti di serenità con sole alternato a un po' di nuvole. Poi però dal pomeriggio arriverà il cattivo tempo che porterà, vedete, il simbolo della neve su tutto l'Appennino marchigiano, il che significa che innanzitutto si abbasseranno le temperature e poi arriverà anche la pioggia. E allora il mattino, come abbiamo detto, abbiamo una giornata variabile con tendenza ad aumentare la nuvolosità nel corso della mattinata. Poi il pomeriggio, cielo irregolarmente molto nuvoloso con piogge e temporali via via diffusi durante il corso del pomeriggio con neve sui rilievi appenninici oltre 1.200-1.300 metri ad iniziare dal Pesarese. La sera e la notte, quindi la notte che verrà, cielo generalmente nuvoloso con rovescia, tratti diffusi nel corso della notte tenderanno a concentrarsi sui settori centro-meridionali della regione. Le nevicate saranno sui rilievi mediamente oltre 600-700 metri, ma con rovesce di neve mista a Graupen o anche a bassa quota, specie del Pesarese. La temperatura è in brusca diminuzione dal pomeriggio. Ok? Allora, questa è la situazione del tempo per la giornata di oggi. Per quanto riguarda mercoledì, questa è la giornata di domani, ancora la grafica, ancora non è finita, vedete c'è ancora della nuvolosità nell'entroterra, nell'Appennino e domani pomeriggio di nuovo ancora pioggia, pioggia con ancora delle nevicate. Questa è la situazione del tempo. E allora, prima di parlare del tempo però vi dobbiamo parlare di due tragedie che si sono consumate sulle strade, sulle strade pesaresi e lo facciamo con il resto del Carlino. La prima riguarda un ciclista, un ciclamatore che è stato colpito, fulminato da un infarto, aveva 57 anni ed era sempre in bicicletta. Si chiamava Patrizio Virgili, 57 anni, sposato, pesarese, lavorava alle dipendenze della Scavolini. Ieri si trovava in bicicletta intorno alle 11 con un gruppo di amici e a un certo punto è caduto a terra, colpito da un infarto. Non aveva mai avuto patologie cardiache, scrive il giornale, si sottoponeva a controlli. E questa è l'immagine sia della tragedia sia della vittima di Patrizio Virgili, mentre andava appunto in bicicletta. Sotto l'altra tragedia che per fortuna ha un epilogo un po' diverso, anche se i segni li porterà nel tempo. È in vita, è ancora in vita. Per fortuna è caduto in sella ad una moto Suzuki 600, gli è stato amputato il piede sinistro, il dramma, un incidente l'altra sera lungo l'interquartieri a Pesaro. Protagonista è un ragazzo di 26 anni di Pesaro, Manuel, questo è il nome. Ha perso il controllo di questa sua moto finendo sull'asfalto per poi sbattere anche sul guardrail, una carambola che non ha coinvolto altri mezzi, però ha avuto, come dicevo, conseguenze drammatiche per il giovane. Dicevamo della pioggia, di questa pioggia intensa, ormai a ridosso tra Pasqua e Pasquetta, di notte via Pisacane di nuovo allagata, allagata un'altra volta, scoppia la rabbia dei residenti, il comune dicono non ci aiuta, abbiamo chiesto un mezzo ASET che però ha replicato, dobbiamo verificare i turni. Dopo le piogge di Pasqua, danni e anche momenti di tensione. Vedete in questa fotografia d'archivio il sottopasso del Lido che è andato di nuovo sott'acqua e poi qua una foto di un cane che annusa, che guarda la grandine. Grandine che è scesa in abbondanza e ha fatto anche dei danni, lo vedremo tra un istante. Poi si parla sulla pagina di Fano del Carlino anche del tappo del torrente Arzilla, non ci sono rischi di tipo idraulico, parla l'assessore Cristian Farenzi che dice abbiamo pulito gli argini del torrente Arzilla, noi, anche se è competenza della provincia. E diciamo della grandine. Grandine una legnata per l'agricoltura. Dirlo è Maurizio Gambini che al di là della carica di sindaco di Urbino che ha, è anche presidente del più grande consorzio di agricoltori biologici delle Marche. E queste sono le fotografie di Cagallo, poi di fianco c'è la piazza del popolo a Casinina. Sembrava una vera e propria nevicata. Guardate, tutto bianco. In realtà era la grandine. Grandine non grandissima, come si può vedere anche dalla foto pubblicata qui sul giornale. Però insomma, e oggi in serata, come dicevamo poco fa dalle previsioni, ci sono anche possibilità di rovesci nevosi intorno agli oltre 700-800 metri di quota. Quindi l'inverno è tutt'altro che finito. Giornata di Pasqua, giornata di Pasqua e Pasquetta, anzi Pasquetta con le porte in faccia. Qui siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Vedete, ci sono purtroppo delle critiche per musei e monumenti chiusi. C'è il viaggio del resto del Carlino nelle inaccessibili eccellenze della città. Molte sono chiuse, erano chiuse per lavori. L'assessore al turismo marcheggiani si difende. Dice, tenere aperte le strutture costa. L'obiettivo ora è disporre di più fondi. Il mio tesoro. Guardate questa pagina dedicata ad un collezionista da record. Lui si chiama Luciano Cecchetti. E ha una passione straordinaria per i giocattoli. Dà un museo straordinario. Guardate che fotografie molto belle. Dice, questo è il mio tesoro. Sono 3500 giocattoli da lavoro. Camion, Ferrari, autostrade. Ha raccolto la produzione mondiale. Dice, lui sono il primo in Europa. Lucio Cecchetti, dal bunker di Bellocchi di Fano, racconta questa sua passione. Una passione che andrebbe anche condivisa con gli altri. Lui ha fatto delle proposte. Ha chiesto a due sindaci la possibilità di allestire questa mostra e di dare la possibilità di vederla anche agli altri. Ha chiesto la chiesa di Sant'Arcangelo, per esempio, che sarebbe la sede ideale per farne un'esposizione. È così strano conservare questo modo di trasmettere il sapere con i giochi? No, non è strano. Anzi, forse qualche bambino di fronte a questi giocattoli potrebbe anche stupirsi, potrebbe anche allargare gli occhi, quelli un po' più sensibili e dire, ma... Allora, ladri alla Domo. Cassaforte sventrata, ma stavolta hanno razziato solo 300 euro. Siamo a Calcinelli, altro colpo alla fabbrica di pentole. Parla il titolare. Due anni fa portarono via 130.000 euro di oggetti, però vennero fermati e poi arrestati. Però questa volta i ladri sono tornati di nuovo all'opera, alla Domo S.p.A. di Calcinelli, una fabbrica di pentole antiderenti esportate in Mezzomondo. Qui sopra vedete Maurizio Mezzanotti, che dice sono entrati con il piede di porco, ma ricostruiremo il percorso che hanno seguito all'interno. E poi sopra l'inversione di Harley Davidson al ristorante Monte Cucco, tanti motociclisti, centauri davanti al noto locale, e sotto invece ripreso, sempre la cronaca, ripreso mentre ruba il supermercato, è finito in manette. Si tratta di un 19enne che era riuscito a perlevare 1.300 euro dalla cassa del supermercato di Mondolfo, che si chiama Si Contè. Andiamo sul Corriere Adriatico. A centro pagina, nell'edizione di Peso Urbino, la fotografia della stazione di Fano, un brutto biglietto da visita vicino al degrado del mulino Albani, incuria e carenze alla stazione del treno. A Fano il sottopasso trasformato in latrina e ricettacolo di rifiuti, disagi anche per i disabili. Mentre a pagina 2, la sorpresa di Pasqua, grandi neallagamenti, una notte di tregenda, ha bruscamente interrotto una domenica segnata invece dalla voglia di sole e dalla voglia di mare. E' una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, ma il ritorno del bel tempo non ha rovinato la Pasquetta. A Fano sottopassi allagati, un albero è crollato anche su un'automobile. A Urbino invece è pronta la Torah della pace. Da Urbino in tutto il mondo, il progetto di un'opera straordinaria ha visto coinvolte eccellenze internazionali. E poi a Fano, carenze e incuria, quel brutto biglietto da visita della stazione, è sottopasso usato come WC e cestino dei rifiuti. L'ascensore non funziona, ci sono disagi anche per i disabili. Poi sotto la cronaca preso per il furto al market, caccia adesso ai due complici. Un colpo da 1.300 euro a Mondolfo. Arrivano invece, parliamo di vacanze, le vacanze quelle pasquali che si stanno concludendo in queste ore, arrivano anche gli olandesi e gli austriaci, gli esercizi pubblici fanno il pieno. Lido e Sessonia hanno recuperato un aspetto decoroso per accogliere i visitatori del weekend pasquale. Poi, dicevo all'inizio della rassegna, oggi è una mezza festa per i fanesi. Perché? Perché come è ormai tradizione, il martedì di Pasqua si trascorre al parco Baden-Powell, il parco della pinetta di Ponte Metauro, che è sempre stato negli anni il luogo di ritrovo per eccellenza in questa giornata di martedì di Pasqua, che si divide tra momenti solenni e picniche. I momenti solenni sono per esempio le messe programmate tutte le ore nella chiesa della Madonna del Ponte e alle 17 a ufficiare la liturgia, sarà il vescovo di Fano Trasarti. Nel corso della giornata si svolge anche la pesca di beneficenza e la visita alla stupenda pinetta. Ma fatta la svelta perché oggi pomeriggio arriva l'acqua, quindi bisogna andarci in mattinata. Allora, andiamo adesso sulla pagina della Valle del Cesano, sempre per parlare di mete pasquali. Tra le mete pasquali sicuramente il boom è stato anche quest'anno al monastero di Fontavellana, splendido, guardatelo qua, incastonato alle pendici del Monte Catria. Sono stati accolti tutti i pellegrini, ma anche turisti, possiamo dire tranquillamente, quelli che si fanno l'uscita fuori porta il giorno di Pasquetta, accolte tra mura millenarie, dove c'è la radice della fede, in centinaia hanno scelto appunto questo monastero come meta di Pasqua. E Don Gianni Giacomelli, che è il priore di Fontavellana, dice la luce di questa festa ci consente di illuminare le nostre stanchezze. Senigallia, Frana, dopo il nubifraggio, due case restano isolate, vigili del fuoco impegnati anche in Via della Selve a Ostra, in Via delle Selve, che è rimasta allagata, terre e acqua in strada a Brugnetto, a Roncitelli è saltato un impianto fognario. Sotto, fa anche un po' sorridere questa cosa, insomma, perde il portafogli, però dentro c'era marijuana. Una persona lo trova nel carrello della spesa, è stata denunciata adesso una quarantena romena. La donna si era recata all'Eurospin di Senigallia per fare degli acquisti in vista della Pasqua. Ha perso il portafogli, qualcuno l'ha trovato, l'ha portato giustamente dai carabinieri, che però dentro, oltre ai documenti, ci hanno trovato anche un po' di marijuana. E quindi la donna che ha perso il portafogli adesso si trova nei guai. L'ultima pagina, sempre quella di Senigallia, addio a Tollo, che è il medico dal cuore d'oro, l'ortopedico Francesco Marchetti, è morto all'improvviso a 68 anni. Domani ci saranno i funerali nella chiesa dell'ospedale di Senigallia. Mentre Marzocca perde lavorantuo, lavoratore nuovo, Franco, ex dipendente comunale, conosciuto in città come il ragionier Bestetti, che è il ruolo che ha interpretato in una delle più famose commedie della compagnia teatrale dialettale La Sciabica. Aveva 73 anni, i funerali si svolgeranno oggi, alle 3 del pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Marzocca. Siamo sempre a Senigallia. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita. Noi ci rivediamo stasera alle 20.30, perché c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. A questo numero, invece, potete, come sempre, inviare i vostri messaggi, le vostre segnalazioni. Grazie e anche grazie per gli auguri che ci avete fatto, avete fatto la redazione in questi giorni, contraccambiamo. Grazie a tutti. Ci vediamo stasera. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.